Riccardo a Ieresio, qualcuno ci ha conosciuto, io vorrei raggiungere due parole, siamo qui perché io ho avuto sempre un tempo per questa piatta, è una delle visioni di anze calcistiche e non solo dalla campagna, il nostro discorso parte dall'alba, l'ha detto anche il Presidente Adriano, molto capito Giuliano, noi fonderemo un discorso tecnico semplice, partiremo dalla base, quando dico base vuol dire il settore giovanile, è dare lusso a quello che praticamente è stato sempre il sorretto negli anni passati, perché diciamo che la verità è calcio di oggi, dove comunque il corso del lavoro è elevatissimo, è inutile fare voli pintarici, o spiegare risorse economiche, visto anche il momento storico che sta vivendo in Italia, anzi in Europa tutta, allora io ritengo che l'azienda calcio debba darsi una regolata, basta con gli ingaggi paraonici oppure spese basse, bisogna ripartire dai ragazzi. e il mio sogno è quello di vedere in questo lungo progetto dei giorni del settore giovanile da qualche anno che potranno far parte della rosa della prima squadra, quindi bisogna partire da lì e quando poi c'è nella prima squadra, è chiaro, avremo un campionato sicuramente per fare una salvezza tranquilla, ci saranno tanti giorni, ma ci saranno anche 7-8 ove che faranno da ghioccia a questi tanti giorni che la domenica scenderanno in campo per diventare i uomini, adesso vedo, quindi stateci vicino, siamo tutti qua per fare cose serie, e per dare i due che sostengono, sì, questo è il punto. Grazie.